Ancora ben trovati dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Agnese Fedeli. Il traffico si mantiene regolare su strade e autostrade della Toscana. In A1 ricordiamo la chiusura dell'uscita a Firenze Sud, proverendo da Roma per lavori fino alle 7 di domani mattina. In FIPILI troviamo personale su strada per lavori in uscita Empoli Ovest per chi proviene da Firenze. Voltiamo pagina per il traffico ferroviario, il regionale 1610 Arezzo Sestri Levante sta viaggiando con 21 minuti di ritardo. Il transito a Viareggio è al momento previsto alle 9.35, salvo recupero. E prima di salutarci per il traffico urbano di Firenze, da domani al 29 luglio in Viale dei Mille per scavi per la fibra ottica sono previsti diviete di sosta e restringimenti tra il Civico 51 e via Pacinotti. Tutti i loro provvedimenti nei giorni successivi. Muoversi in Toscana Infi è un servizio in collaborazione con la regione Toscana, città metropolitana di Firenze e comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio!